Tanto Luca, proseguiamo invece nel cammino perché l'avversaria, la terza avversaria del girone è stata l'Islanda, anche l'Islanda era squadra esordiente eppure che cavolo! Eppure erano bravi, quindi questo forse è il punto basso secondo me del torneo, già parlare di punti bassi, insomma è un po' imbarazzante, un po' gratificante, questo era un esordiente come noi ci ha legnati, l'Islanda ci ha battuti, è stata la partita forse che in teoria si contava, non c'era nessun compiacimento nella maniera più assoluta, ecco qui Lele, scusate cambio tema, avete visto, questo è un palma, abbassa la palla con la mano, la vince l'Italia ovviamente se la gioca, alla pari di tutti i squadri contatti. Però poi c'era questo biondino in mezzo che ci ha fatto vedere i sorci verdi. Sì, sì, i sorci di vari colori ma lo stesso all'impianto di gioco degli islandesi era buono, anche loro avevano una tv nazionale che era giù per fare un documentario, avevano un'ottima selezione di giocatori, hanno spiegato che già... Ha intervistato Luca, chiederemo magari di incrociare le produzioni. Sì, e noi a nostra volta avevamo la curiosità di questi islandesi che tutti aspettavano secondo i vari stereotipi, anche perché non credo più lontano dall'Australia, gli antipodi nostri sono l'Australia e la Nuova Zelanda esattamente. L'Islanda dà un'idea ancora di più distante, invece giocavano, hanno giocato molto bene, ci hanno battuti. Questo, insomma, era l'incontro che... questa delle tre sconfitte è senz'altro quella che è dispiaciuta di più. Quella che brucia un po' di più. Allora, andiamo a sentire proprio da uno degli atleti dell'Islanda il modo curioso in cui è nato il football australiano, comunque il progetto di questa selezione nazionale in Islanda. No, sai Dani, più che come è nato il progetto, perché è stato proprio per due o tre islandesi australiani che hanno iniziato ad allenare e non a giocare, si spiega come la gente li vede quando passa a fianco. Eh, ma perché loro in realtà hanno iniziato con Facebook, si sono invitati sul famoso social network e quindi, insomma, la cosa curiosa è anche questa. Ci prendono per matti perché ci vedono placare, correre con la palla ovale. Io ho provato a spiegare un po' di persone anche, ma a volte non è proprio facile, non sanno cosa dire. Non hanno mai guardato l'Osilus in Islanda, ma dopo questa coppa andrà, sarà popolare. Allora, probabilmente curiosa una palla ovale in Islanda. Luca, però è il momento, insomma, di parlare di cose positive, no? Perché dopo le tre sconfitte, c'è stato il... nel pomeriggio... Buon pomeriggio.